Ciao a tutti, il video di oggi si chiama Griglie Float. Vedremo come posizionare 10 elementi all'interno di un contenitore e visualizzarli in modo diverso a seconda del dispositivo che utilizziamo. Quindi vedremo tre tipi di visualizzazioni, desktop, tablet, mobile. Partiamo subito. Bene ragazzi, siamo qui davanti alla nostra schermata di Atom, come al solito. Iniziamo subito e andiamo a creare un nuovo progetto, add project folder. Andiamo su scrivania e creiamo una nuova cartella che io chiamerò Griglie Float con il nome del nostro progetto. Facciamo ok, il progetto è stato aggiunto, clicchiamo col tasto destro, facciamo new file e andiamo a chiamare il nostro file come al solito index.html.html.5, tab, perfetto. Il nostro snippet è pronto, andiamo a sistemarlo, lang.it title.girogriglie Float. Ok, andiamo a linkare il nostro foglio di stile, leggerisco il tag link e nell'href metto il nome del mio foglio di stile che chiamerò stile.css. Facciamo ctrl s, quindi salviamo il nostro index, ci spostiamo qua nella schermata del nostro progetto e creiamo un altro file che chiameremo stile.css. Ok, andiamo subito ad inserire le nostre classi, innanzitutto diamo al body e all'html margin 0 e padding 0, così resettiamo margini e padding del nostro documento. Ancora inseriamo nel body il nostro background, mettiamo un bel... salviamo nel nostro index il foglio di stile e ok, perfetto. A questo punto prendiamo il nostro index e lo andiamo ad aprire sul browser. Bene ragazzi, il nostro foglio di stile funziona correttamente, adesso ritorniamo su atom e la prima cosa che facciamo andiamo a splittare in basso il nostro stile.css. Chiudiamo il file qua in alto e siamo pronti per iniziare. Quello che faremo oggi è creare un contenitore responsive che occupa il 100% dello schermo. All'interno di questo contenitore andremo a posizionare 10 elementi che assumeranno posizione e dimensioni differenti a seconda del dispositivo con cui la nostra pagina sarà visualizzata. Quindi essenzialmente avremo tre tipi di visualizzazione, desktop, tablet e mobile. Mettiamoci subito al lavoro. Allora, iniziamo creando il nostro contenitore principale. All'interno di questo container, come vi abbiamo detto, dobbiamo inserire 10 elementi. A ognuno di questi elementi daremo la classe elemento. Quindi sono tutte 10 uguali, copiamo in vivo e incolliamo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfetto. Salviamo l'html e ci spostiamo nel foglio di stile. Andiamo a inserire la classe container. A container daremo una larghezza del 100%, un bordo di un pixel solid e sposteremo questo container dal top di 100 pixel. Quindi daremo un margin top di 100 pixel. Salviamo, andiamo nel mouse e aggiorniamo. E abbiamo qua il nostro contenitore. In questo momento, come sappiamo, è chiuso perché all'interno non c'è nulla. ritorniamo su Atom e andiamo a selezionare nell'html i 10 elementi. All'interno di questi elementi inseriremo un paragrafo. e scriveremo elemento. Distingueremo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, salviamo, ritorniamo nel browser, F5. Abbiamo il nostro contenitore con i 10 elementi. Ok, ritorniamo su Atom, ci spostiamo nel foglio di stile e andiamo ad inserire la classe elemento. Andiamo a dare un po' di stile a questi elementi. Innanzitutto gli diamo un bordo. Bordo, un pixel. Solid. Dopodiché, intanto li visualizziamo. Vediamo cosa è successo. Perfetto, i 10 elementi adesso hanno un bordo. Bene, adesso andremo a creare due classi. Una la chiameremo verde e l'altra blu. Alla classe verde, daremo un background, quindi digitiamolo. Background, light, green, un verde chiaro. E alla classe blu, assegneremo invece un background blu. Salviamo il foglio di stile, ci spostiamo nell'HTML e andiamo a selezionare i nostri elementi. Elemento 1, il terzo, il quinto, il settimo e il nono. A questi assegniamo la classe verde. Selezioniamo poi il secondo, il quarto, il sesto, l'ottavo e il decimo. E a questi la classe blu. Salviamo, aggiorniamo la pagina del browser e abbiamo i nostri elementi colorati. Adesso andiamo a stilizzare i paragrafi all'interno degli elementi. Quindi scriveremo P e a questi paragrafi daremo un font size di 22 pixel. color nero. Poi allineeremo il testo al centro e daremo maggiore peso al font. e quindi un bel font weight bold. Salviamo, aggiorniamo, perfetto, mi piace. Andiamo a dimensionare la finestra. Vediamo come si comporta il nostro contenitore. Ok, sembra andare tutto bene. Quindi, adesso cosa vogliamo fare? Vogliamo che ognuno di questi elementi assuma una determinata posizione. Cosa faremo? Daremo una determinata dimensione in larghezza a questi elementi. Cioè, ognuno di loro prenderà una percentuale di spazio all'interno del contenitore. Per l'esattezza prenderà il 20%. Quindi, ritorniamo su atom e andiamo a dare alla classe elemento, come abbiamo detto, una larghezza del 20%. Salviamo, aggiorniamo il browser. Perfetto, adesso gli elementi occupano il 20% di spazio del loro contenitore. Adesso cosa abbiamo detto che dovevamo fare? Questi elementi, ovviamente, devono assumere una determinata dimensione. Noi vogliamo che su desktop siano visualizzati in due righe e cinque colonne. Quindi, avremo uno, due, tre, quattro, cinque colonne e due righe. Per fare questo, dobbiamo utilizzare una proprietà che già conosciamo. La proprietà è float e andiamo a flottare quindi tutti gli elementi a sinistra, utilizzando appunto il float left. Salviamo, ritorniamo nel browser, F5, ok. Tutti gli elementi adesso sono flottati uno a sinistra dell'altro. Quindi, elemento uno, elemento due, tre, quattro. Vediamo che stanno accadendo delle cose, per così dire, strane al nostro template, allo scheletro della nostra pagina. Innanzitutto, il contenitore, il container principale dove si trovano questi elementi è collassato. Come vedete qua, nella finestra del browser, il bordo non c'è più. Questo accade perché non abbiamo ancora utilizzato la proprietà clearfix. Se non l'hai visto, vai a vedere il mio video dove spiego bene la proprietà float e il clearfix. Ti allegherò alla fine nella descrizione. Quindi, dicevamo, ritorniamo su Atom e andiamo ad inserire il clearfix, che è questo piccolo snippet di codice qua, che io ho commentato e che adesso decommento. Ok. Lo portiamo un po' su. Eccolo qua. Perfetto. Salviamo il foglio di stile e il clearfix lo dobbiamo andare ad inserire nel container principale. Salviamo, ritorniamo nel browser, aggiorniamo e il nostro contenitore riprende la sua altezza. L'altro elemento strano, diciamo, che è successo utilizzando il float, dopo l'utilizzo della proprietà float, è che l'elemento 5 non è nella stessa riga dell'1, del 2, del 3 e del 4. Perché questo? Se noi abbiamo detto che il nostro contenitore principale deve avere una larghezza del 100% della finestra del browser e abbiamo dato ad ogni elemento la larghezza del 20%, 2 per 5 è 10. Questo elemento 5 dovrebbe stare qua. Invece no. Perché questo? Andiamo ad ispezionare. Lo vediamo un po' meglio. Quindi, in questo momento, noi abbiamo una finestra. La portiamo, vediamo se riusciamo a 1000. Lo facciamo così. 1000 pixel. Ok. Quindi abbiamo questa finestra di 1000 pixel. Il nostro container principale, ovviamente, è anch'esso di 1000 pixel in larghezza. Se andiamo a vedere i nostri elementi, la dimensione che stanno assumendo i nostri elementi, è di 200 pixel. 2 per 5 è 10. Quindi l'elemento 5 dovrebbe stare qua. Invece no. Perché? Perché 200 pixel, questa qua che noi vediamo, 200 per 70, è il contenuto che c'è all'interno di questo rettangolo. A questa dimensione, 200, dobbiamo calcolare eventuale padding, il bordo e il margine. Quindi noi abbiamo dato un bordo di un pixel ed è chiaro che a questo contenuto dobbiamo sommare un bordo a sinistra e un bordo a destra. Quindi diventa 200 2 pixel ogni elemento. Questo è il motivo perché l'elemento 5 viene buttato fuori. Comunque, se vuoi approfondire questo discorso del box sizing, vai alla fine di questo video nella descrizione e ti allegherò un link per vedere il video che ho realizzato sul border box e box sizing. Comunque sia, quindi quello che dobbiamo andare a fare è utilizzare questa proprietà che al solito io ho commentato, quindi te commento. La proprietà ci dice che dobbiamo assegnare al box sizing il valore border box. Salviamo, ritorniamo sul browser, aggiorniamo con F5 e vediamo che l'elemento 5 adesso è in linea con gli altri 4. Abbiamo ottenuto 2 righe e 5 colonne. Andiamo a vedere qua. Adesso la dimensione del contenuto di ogni elemento è diminuita. Perché? Perché a questo 197.594 dobbiamo sommare, come abbiamo detto, eventuale padding, bordo e margine. Bene, a questo punto dobbiamo fare in modo, come abbiamo detto all'inizio, che questi elementi assumano dimensioni e posizioni differenti a seconda del dispositivo con cui vengono visualizzati. E quindi diano un aspetto diverso alla nostra pagina a seconda se viene visitata da un dispositivo desktop, quindi un pc, da un tablet o da un telefonino mobile. Quindi andiamo a realizzare le altre due dimensioni, perché questa la utilizzeremo per i desktop. Va benissimo per schermi desktop, per schermi da pc. Andiamo a realizzare le altre due. Per farlo utilizzeremo le media query. Quindi inseriamo una riga di commento e qui scriveremo tablet e sappiamo che questa media query la utilizzeremo per i tablet. La sintassi per inserire le media query, che sono un punto di interruzione nella visualizzazione, è questa qua. Quindi clicca la media, inseriamo un max width 2.998 pixel. Ok, qua possiamo inserire la classe che ci interessa. Quindi cosa gli stiamo dicendo? Gli stiamo dicendo che non appena le dimensioni dello schermo arrivano a 998 pixel, la visualizzazione deve cambiare. In realtà stiamo dicendo che questa proprietà, cioè si deve attivare questa dimensione fino a 998 pixel. Dopo 998 pixel scatterà tutto il resto, il desktop. Quindi noi cosa vogliamo che accada su tablet? Vogliamo che venga modificata la classe elemento. La andiamo a copiare e la inseriamo qua. CTRL V. Il border 1 pixel solid mi sta bene, quindi non c'è bisogno che lo ripetiamo. Il float left mi sta anche bene. L'unica cosa che dobbiamo modificare è la larghezza. Su tablet io voglio che ogni elemento prenda il 50% dello spazio disponibile. salviamo F5. Ok. Non appena, se funziona, non appena scendiamo al di sotto di 998, ecco cosa accade. Ogni elemento prenderà il 50%. Ok, da 9,98 in poi, perché fino a 9,98 gli abbiamo detto. Adesso vado a 9,99, perfetto, ritorniamo in quel modo. Andiamo nel browser, nel suo atom, scusate, mi vado a copiare questa media, inserisco qua e realizziamo quella per il mobile. E gli diciamo, chioccio la media, max width, 7,68. Invece, la classe, alla classe elemento, diamo una larghezza del 100%. Salviamo, ritorniamo sul browser F5 e scendiamo a 7,68. Perfetto, a 7,68 la nostra visualizzazione degli elementi è al 100%, cioè ogni elemento occupa il 100% di spazio, quindi prenderà un'intera riga. перек GPIO Perfetto, a 1,98. Non học 2, signs del processo, di rip研 bambini, alla r Tranotarcia degli elementi è al 100% di spazio tipo experiences di politico. Fini gradduttava, dopo la risposta sarà un 60% di spazio tipo profta della Irona,